Niente botti dal 31 dicembre al 7 gennaio. Il sindaco Possamai ha firmato un'ordinanza che vieta l'uso di accendere e lanciare fuochi d'artificio, sparare petardi, far scoppiare mortaretti, razzi e altri artifici pirotecnici in tutti i luoghi frequentati, nelle vie, nelle piazze e nei parchi comunali. Ordinanza che si rinnova ormai da qualche anno ed è rivolta alla tutela delle persone, dell'ambiente e degli animali domestici. Come avviene ormai da qualche anno, abbiamo deciso di promulgare un'ordinanza per il divieto dei botti nella giornata del 31 dicembre fino al 7 gennaio. Questo per evitare chiaramente danni alle persone e agli animali, tantissime segnalazioni di animali che scappano a causa dei botti, quindi ci sembra il modo migliore per preservare la salute delle persone e degli animali. L'ordinanza sarà in vigore naturalmente anche in Viale Roma, dove alle 18 del 31 dicembre si aprirà il villaggio di Capodanno, con area food, con l'intrattenimento della pista di patinaggio sul ghiaccio, gli speaker che accompagneranno i presenti alla mezzanotte. Evento che vedrà salire sul palco Max Gazze, per cui è attesa un'affluenza di circa 5.000 persone. Serata che avrà due dimensioni, quella della socialità e quella relativa alla sicurezza, in un'inedita location pensata per ospitare grandi eventi in spazi estesi che assicurino facili vie di fuga e per cui è stato predisposto un servizio di sicurezza ad hoc. Abbiamo fatto dei tavoli tecnici e quello che è stato organizzato e che è stato richiesto dal questore è di avere un prefiltraggio, quindi presenza di steward e di volontari che indirizzeranno i cittadini che arriveranno a Campomarzo verso le cosiddette basche d'ingresso, le corsie d'ingresso per arrivare sotto il palco di Max Gazze. È stato preventivato anche un potenziamento della sorveglianza dei controlli? Sì, ovviamente ci sarà anche la partecipazione della polizia locale, delle forze d'ordine della questura che saranno incaricate ovviamente di fare sicurezza durante l'evento.